tra bellezza e la bravura, ma soprattutto c'è l'affetto e il riconoscimento e la stima nei riguardi di questa importantissima azienda, per tanti motivi. Ne dico uno non medico, io che sono il Presidente italiano, come sapete, europeo dei medici sportivi, ma è un'azienda che in un momento di difficoltà, in un momento del Paese, in un momento in cui oggi il PIL, la crescita del Paese è data a zero, dà lavoro a diverse decine di migliaia, più di centomila, centocinquantamila persone e quindi centocinquantamila famiglie. È il primo ringraziamento che è uno che sente profondamente il senso sociale e che deve dire grazie a questa azienda. Ma la considerazione più importante è che è un'azienda che ha dato prova sul campo di grande credibilità. Io l'ho detto quando sono venuto per la prima volta insieme a voi, insieme al Presidente del Coniglio Malagò, che mi permetto di portare anche il suo saluto, perché esiste un contratto tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Herbalife. Oggi Malagò è anche uno dei tre membri del Comitato Olimpico Internazionale. E tra l'altro è anche il grande merito, il primo merito di aver portato in Italia le Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina. E dato che Herbalife è sponso del CONI, quantomeno Herbalife porta fortuna. Lui è bravo, ma Herbalife è porta fortuna sicuramente. Allora, detto questo, devo dire che io quando ho approcciato per la prima volta Herbalife, come ho avuto in altra occasione modo di dire, ho approcciato con una certa anche, non dico diffidenza, ma una certa attenzione a capire cos'era e quali erano i prodotti, quali erano le situazioni. E quindi non ho nascosto il fatto che una certa effettivamente diffidenza avevo nell'approccio soprattutto di legare, oltre alla mia persona, anche alla Federazione Migrosportiva, un'azienda di questo tipo. Bene, devo dire che, soprattutto perché la Federazione Migrosportiva Italiana gestisce sostanzialmente l'antidoping di tutti gli atleti italiani per leggi di Stato, del CONI, dello Stato, eccetera, eccetera, su tutto il territorio nazionale e tutti gli avvenimenti internazionali. L'unico laboratorio pensato di antidoping è nostro in Italia, uno dei 29 accreditati nel mondo dell'Award Antidoping Agency, che è l'Organizzazione Mondiale Antidoping, oltre a tutti gli ispettori antidoping. Quindi c'era una certa attenzione in quella che era la capacità e la garanzia di certi prodotti. Bene, ho avuto modo di valutare, di dirlo, e non è la prima volta che lo dico, la serietà e l'attenzione, e soprattutto l'attenzione e la sicurezza di tutta la catena dai prodotti, dalle prime materie prime, fino a tutta l'analisi e tutti i processi che portano poi a tutte le molecole, e quindi anche i rischi di contaminazione, quindi attenzione, attraverso poi le certificazioni, prodotto su prodotto, di un laboratorio importantissimo di Londra, che tra l'altro è stato uno dei laboratori antidoping, anche della inglese, su tutti quelli che sono i prodotti. E questo ha portato, indubbiamente, a un riconoscimento, prima della credibilità, voglio dire, di questa azienda, e poi al rapporto che è stato prima contrattuale con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, poi il fatto che molti atleti olimpici hanno aderito a prestare la propria immagine, il proprio nome, voglio dire, a questa azienda, e gli atleti sono molto attenti, specialmente gli olimpici, a quella che è la loro sicurezza, la loro immagine, che poi si traduce anche in contratti, voglio dire, su quella che è la sicurezza, e quindi molti atleti olimpici hanno dato il proprio nome, la propria immagine a questa azienda. E lo stesso Comitato Olimpico Italiano ha sottoscritto questo contratto, che non è solamente un contratto, ma ha portato anche a un rapporto, voglio dire, su alcuni prodotti, che ha permesso anche a questo contratto di mettere il marchio del CONI su alcuni prodotti, come sapete, che sono gli H24. Beh, sembra una cosa contrattuale. Il Comitato Olimpico Italiano è estremamente attento a queste cose, e questo è stato un riconoscimento anche di autorizzazione da parte del Comitato Olimpico Internazionale. E questo non è una grande cosa che ha fatto il CONI, è una grande cosa che ha fatto Herbalife.